Le donne vittime di violenza italiane e straniere regolarmente presenti sul territorio nazionale con o senso figli, ospiti di case rifugio che vogliono ottenere un finanziamento agevolato per avviare o sviluppare iniziative di microimpresa o di lavoro autonomo professionale in tutti i settori, escluso quell'agricolo e della pesca, potranno rivolgersi a uno dei centri antiviolenza del proprio territorio o chiamare il numero nazionale antiviolenza 1522 per chiedere di aderire al progetto microcredito di libertà. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne presso la Camera di Commercio di Enne Palermo. Le donne possono rivolgersi a Fidimed in tutte le sedi che sono aperte in Italia e comunque anche attraverso la nostra organizzazione e la nostra rete commerciale e presentare un progetto, un'idea, un'iniziativa impenditoriale o professionale e a quel punto attiviamo lo strumento che stamattina abbiamo presentato qui alla Camera di Commercio. Il microcredito di libertà mira a emancipare e ad affrancare da forme di sudditanza economica le donne che dopo la denuncia hanno dovuto allontanarsi da casa e dal contesto in cui operavano. Come racconta Marco Paoluzzi, responsabile e coordinatore dell'area credito e banche dell'ente nazionale per il microcredito. Abbiamo immaginato questo strumento con il Dipartimento delle varie opportunità, con l'ente nazionale per il microcredito, insieme a Federcasse, insieme a Dabi e a Caritas proprio per dare uno strumento in più a quelle donne che intraprendono il percorso di fuoriuscita dalla violenza. Le donne chiaramente subiscono spesso questo genere di violenza e la violenza non è quella che immaginiamo normalmente, c'è violenza di tutti i generi, fisica, psicologica, relazionale. Noi ci occupiamo con questo strumento della violenza economica. La violenza economica forse è quella meno evidente delle altre, ma è quella che più di tutte costringe la persona a rimanere succube di una determinata situazione violenta. Allora un percorso di fuoriuscita dalla violenza deve essere un percorso che accompagna le persone anche dal punto di vista economico. Così facendo, con l'assistenza della Casa Rifugio o del Centro Antiviolenza o di un punto di contatto della Caritas, si potrà ottenere l'erogazione di un finanziamento agevolato presso la rete di Fidimed, che è il primo intermediario finanziario in Sicilia e tra i primi in Italia ad avere aderito al progetto, finanziato con 3 milioni di euro dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In Sicilia collaboreranno al progetto la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, il Comitato Imprenditoria Femminile e il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo.